Buongiorno a tutti, hello everybody, benvenuti nel modulo lezioni di inglese per tutti di Lina Odina. Oggi faremo la nostra lezione numero 79 del nostro libro che praticamente questo è ancora la pagina 16 come sapete ma perché lì ci sono tante parole e perché vale la pena essere allenati sulla sulla pronuncia. Come sapete ogni volta facciamo la lettura delle parole come primo punto con la trascrizione e la traduzione in italiano dopodiché leggo ogni parola due volte e allora voi potete cercare di ripetere insieme a me e poi nel pdf che vi manderò insieme con la lezione il link del video troverete un esercizio diciamo le traduzioni delle parole saranno a parte e voi dovete scrivere la traduzione giusta diciamo accanto della parola in inglese e provare un'altra volta a leggere e vedere se vi ricordate la pronuncia delle parole. Allora vi ringrazio un'altra volta che mi guardate e continuate di stare attenti alla situazione si complica un'altra volta speriamo che prima o poi che tutto finirà. Allora possiamo iniziare la nostra lezione leggiamo la prima parola è cottage che è una cottage ok ecco noi senza volere anche in italiano non si pronuncia così c'è una villa rich ricco child bambino match match questo può essere partita ok catch catura nature natura creature creatura question domanda cinema cinema rice riso nice bella bello scene sena scena scent profumo sock calzino sick malato small piccolo smoke fumo sleep dormire listen ascoltare fasten allacciare queste erano le parole di oggi sapete che ho diviso queste tante parole che abbiamo su quella pagina e faccio ogni volta una porzione di una ventina così quelli di voi che sono all'inizio e possono più tranquillamente studiare cercarle e diciamo impararle a leggere allora adesso la sì secondo punto la lettura a ogni parola due volte cercate di ripetere insieme a me facciamo se si BMW e miў iniziare l' mont LauraGO ci vuole la pasta che di ripetere insieme a una icce di ripetere insieme gamma di uno casa che di ripetere insieme a me facciamo un po' ci vuoi ci vuole stile uloro di popolo ci vuole ci vuole dice non stile maا ci vuole ci vuole ci vuole ci vuole ne ma afflude ci vuole noi con me ho i Nice, nice, seen, seen, sent, sent, sock, sock, sick, sick, small, small, smoke, smoke, sleep, sleep, listen, listen, fasten, fasten. Questa era la nostra lezione di oggi, non dimenticate, stay safe and sound and see you next time. Bye bye!